Oh ragazzi, buenos dias! Oggi siamo qua con un nuovo video con il taco, beccatevelo! Allora, come sapete, ho fatto un bel po' di modifiche, un bel upgrade e ora voglio capire cosa ne pensano i miei amici di tutto questo. Quindi li faremo un po' cagare sotto, anche perché la cavalleria è aumentata parecchio, come sapete sono un bel po' di chicche e quindi ci sarà da divertirsi, ecco. Ora, non perdiamo tanto in chiacchiere e andiamo a dargli fuego. Vamos! Allora, prima persona ragazzi, andremo a prendere il buon Momo, non so se ve lo ricordate. Ok. Dai, via vecchio come cacchio ti sei conciato, porco due! Dai, sali! Sali qua sul mezzo! Eccolo! Roba forte qui! Eh? Cazzo! Ma sei pronto qua a sentire il sound? Figlia! Sempre con la mamma banana pure! Ma dov'è? Ti devo portare al lavoro così? Dai, portami al lavoro che devo vendere un po' di banana! Andiamo! Dai! Sempre qua! Pensavo fosse la giornata sbagliata, ma sai che invece, sai che ci divertiamo ancora di più! Sì, con questo bagnaticcio! Qua serve un bel blocco differenziale, cazzo te! Però comunque... Un po' già parte, eh! Sì! Praticamente ho fatto aggiungere un tasto magico qua dentro, ora senti, neanche roba! Ah quindi questo era solo riscaldamento? Era solo riscaldamento, per forza! Eh? Eh? Ahahahah! Sgomma! Diciamo che qua il sound non manda! Sto a diventato una macchina da Renni, Momo! Ehi, eh! Ehi, eh! Alimenta! Tu non lo sai! No, perciò che devo sapere ancora, perché tra un po' sta uscendo la purea di mele qua! Ci ho messo il lounge! Ah pure! Ho messo il lounge, senti! Oh no, no, no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Eeeh, vai! Oh no! Oh no! Oh no! Dimmi, Momo! Com'è! Altro che purea qua! Ho fatto la marmellata! Ahhhh, sì sì sì! diciamo che si fa sentire forse è meglio chiudere lo scarico ragazzi piccola interruzione per dirvi che guardate quante novità sono arrivate nello shop del messicano troviamo i cappellini neri guardate che figata e gli adesivi calienti guardate che storia solo per la famiglia li trovate nel primo commento qua sotto che vi lascio il link mi raccomando dateli del buon fuego facendo così non farete altro che sostenere il canale e soprattutto tutti i progetti più piccanti ecco adios andiamo avanti col video dai che hai diventato al lavoro adesso andiamo al lavoro dai ti accompagno sei timido dai accompagnami piuttosto ti accompagnami dai primo giorno di lavoro ci sta che sei timido va bene va bene mi vergogno ti vergogno eh vecchio è il tuo lavoro eh non è che puoi essere timido mi apri anche la porta? non so perché ma mi sento così agitato prima giornata di lavoro vieni 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 non fare il timidone dai va bene dai andiamo andiamo ma il tuo responsabile chi è? lo sai almeno? no lo conosco adesso spero che non mi cacci fuori non ti preoccupare mi raccomando sei sempre te stesso che hai del talento va bene ok questa è la chiave per lavorare bene tu dici? si vai vai vado vai ah no l'ho sbagliato mecca ma scusa non era questo? no fra l'ho sbagliato non era questo ma dimmelo subito no eh guarda lo sapevo lo sapevo te lo giro vai mamma vai allora vuoi sentirlo un po' stottato qua o no? mi fa una paura voglia bro ti senti un po' insicuro perché è alto ma di brutto proprio perché è alto bro cioè è la cosa più rischiosa sulla quale si è mai salito adesso ti faccio vedere una cosa guarda cosa mi fa vedere? fai vedere qua cos'è questo? qua c'ho l'armeria l'armeria pesante guarda aspetta 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 eccolo cos'è? questo è per le s*** quando vedi una s*** pronto? oh zio hai sentito? ma zio ma stai scherzando? no 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 bro è tutto real ma per caso vuoi sentire un po' il launch senti qua cosa vuol dire? se no so siamo qui c'è un po' ci sentono ci sentono ci sentoni chiudita subito sta roba che te lo sequestran due puoi sentirlo? pronto? vai No ma sai che non pensavo che avessi fatto un'ignorantata così Certo no proprio Ma ti sento Sembra di stare su GTA Allora però com'è ti piace o no? Mi hai fatto spaventare un botto Sono scioccato perché non mi aspettavo Che fosse così insicuro questo mezzo La prossima volta andato ti porto a fare in giro Stravolentieri eh Vaga andiamo L'ha detto ragazzi avete sentito che voi Basta che non guido e poi ho vinto Guarda guarda Grazie a tutti Grazie a tutti